Sindaco, l'Istituto Musicale Gatano Braga è nuovamente senza sede, l'opzione da parte dell'amministrazione è nuovamente il Parco della Scienza, un'opzione rigettata dal Comitato, c'è un'altra opzione per loro per avere una sede? Io devo capire se in questo Paese e in questa città sono i Comitati quelli che prendono decisioni o sono le istituzioni. Io sono un'istituzione, per me le scelte le fanno le istituzioni, al Braga c'è un Presidente, al Braga c'è un Consiglio di Amministrazione, io mi aspetto che il Consiglio di Amministrazione prenda una decisione. Siamo in una situazione di emergenza per alcune strutture all'esito della verifica, se la protezione civile dirà che quella struttura inagibile, il Braga andrà nella prima struttura che noi riusciamo a reperire. Non è che si può scegliere. La struttura non è idonea? Guardi, non manderemo nessuno in una struttura non idonea, bisogna capire cosa si intende per idoneità, perché se per idoneità si intende la vicinanza o la lontananza dal centro, allora non è idonea neanche la Molinari. Noi al Braga abbiamo dato un'opportunità, non può essere un Comitato che decide se quell'opportunità va bene o no. Siamo di fronte all'ennesimo atto di prepotenza da parte del Sindaco Brucchi, sembra che gli stia dando tutto il Parco della Scienza, ma in realtà gli stia dando una porzione del Parco della Scienza, con un auditorium dove ci sono delle infiltrazioni d'acqua, un auditorium che non è assolutamente a norma per essere trattato come una scuola, in quanto ha delle scale non a norma, ha delle finestre non a norma, ha tutta una serie di problemi, proprio oggettivamente, che non permettono a una scuola di entrare all'interno di queste strutture. Quindi il Sindaco deve smettere di insistere su questo Parco della Scienza e dare una struttura idonea all'Istituto Braga.